Oggi quindi la prima riunione della consulta permanente dell'innovazione, quali i prossimi passi? Intanto mettere insieme tutte le idee che sono venute e soprattutto raccogliere quelle che non sono venute, un po' per polemica, un po' per difficoltà, un po' perché la gente non poteva venire qui perché è un giorno lavorativo, ma online si possono raccogliere, vogliamo poi arrivare alla successiva. Nel frattempo stiamo preparando molti interventi, il prossimo è venerdì prossimo a Genova, proprio sulle Smart Cities, quindi questo è il tema che abbiamo colto. E quindi online tutti possono contribuire? Assolutamente sì, se volendo mi verrebbe voglia dire devono, perché poi sono le persone che eh ma io volevo dire ma tu non hai idea, vieni e dillo, vieni e dillo e noi siamo ben contenti di accoglierti, anche se dici il contrario di quello che diciamo noi, perché la dialettica nasce da lì e la partecipazione prevede anche che qualcuno non condivida la nostra strada, a noi piace condividere tutto. E quindi ricordiamo il sito sul quale si possono inviare contributi? Certamente, www.statigeneralinnovazione.it Grazie davvero.